pensavo di salire su questo edificio anche prendi il posto del loro sniper a quel punto se tu sali sull'edificio e puoi vedere allora levo le numerazioni se tu arrivi a vedere questo io posso farmi questo e tu ti fai prima il numero 1 io mi faccio il 2 e poi tu ti fai quest'altro che rimane allora io mi posso fare 2 si è fermato si è fermato ci ha ripensato allora se tu ti fai 2 io posso fare 1 però poi resta sempre l'altro no tu devi fare l'altro prima io mi faccio 1 e poi ci facciamo subito 2 prima che riesci a capirci un cazzo ce la fai a salire sopra quel posto? ah ti ha visto 1 e sta avvenendo fatelo con la pistola ok 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 io ho sempre gli occhi su 2 io ho provato a farmi l'altro allora fai l'altro e io faccio 2 ok vai 3 2 1 go bella noi siamo ancora acuta se vieni su 2 io è pieno di cassi ok poi si entra in miniera ok 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 va che c'è uno? si eh sono preoccupato dagli altri due non ho visto la posizione degli altri due perché marca lì marca lì quel coso quello lì può vedere quello più vicino quando lo abbattiamo? no ok ma l'ha fatto non subito that's a kill ok ok occhio che uno sta per uscire si lo vedi l'altro? no però sta venendo qui uno eh lo so si è fermato aspetta si è fermato e ce l'ho se vuoi ehm ho più paura che due lo veda quindi io devo stare attento aspetta ce l'hai ancora uno? si si ok io ho due tre due uno via via vale perfetto ecco 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 eh lo so sei sicuro che non si può passare da dentro? non vorrei uscire no qua 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 ok siamo dentro ok ok in sostanza è freddo ok ah allora bisogna andare per l'altra parte non c'è nient'altro interessante qua eh no però stai aggucciato che il rumore che facessi il rumore con i passi a cercare ecco 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 dove è? di qua eh è qua dietro? aspetta aspetta sì se sia pizza ce l'ho eh? got it that was close wow ok ok no dovremmo continuare dritto sì sì però aspetta che c'è gente due sicari gli vuoi che cacare il cazzo lo lasci stare ok vediamo vediamo una stascia io comunque cammino backpedal che controllo che non non esca nessuno da lì ok qui c'è la cassa e poi l'apidito c'è la cassa e poi l'apidito sì bella nice bello sto fucile bello 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 tornare